Il primo video RICOSTURIRE Devo ricostruire i pezzi, tratemi la mano. Io qui lo dico e qui lo nego. C'è dell'altro Luigi. Parlate a cuore aperto. Il bambino... non è Di Antoni. Ma se lo lupo già viedi tu manca una missa. Manca una preghiera. Non ho mirato a lui. Non ho mirato a lui. C'era Nami. Ha postato tra gli autori congiunti. Una storia segreta.